vi vi ciao a tutti e benvenuti sulla starlight tv oggi con noi abbiamo un ospite speciale il mio bisinetto che si chiama giovanni ok quindi adesso dovremo fare una video reaction sui video dei vix e cominciamo con haid ciao wow forte chi goga fortissimo ti piacciono le ali forte forte wow mi ha paura niente ha paura quindi non possiamo vedere voodoo che cosa ne pensi dei vix? belli e che cosa mi hai detto prima? ah si i vix mi fanno venire voglia di cantare e ballare e io non lo faccio mai vabbè comunque e questa era quindi la sua opinione su vix e le video reaction e quindi ecco tutto ora vi facciamo vedere il fratellino di una nostra amica mio mi ha paura Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì.